Se stai guardando questo video è perché ti stai chiedendo se il dropshipping su ebay funziona. Magari hai già cercato informazioni su youtube o su google, ma non hai trovato nulla di utile, almeno non in italiano. E oggi voglio chiederti alcune idee, perché il dropshipping è un'ottima opportunità. Ebay ha 180 milioni di acquirenti in tutto il mondo, questo significa un traffico infinito gratuito verso i tuoi negozi, senza spesa di annunci pubblicitari o marketing. Ebay lo puoi iniziare con un basso investimento, quasi a costo zero. Ebay lo puoi automatizzare del tutto, puoi rendere i processi automatici e avere libertà e tempo libero per te. Ebay ha più di 22 milioni di venditori in tutto il mondo, che ogni anno vendono in modo professionale sia in dropshipping che no, puoi essere facilmente uno di loro. Ebay solo l'anno scorso ha venduto più di 70 miliardi di dollari. È facile capire perché Ebay può essere un'ottima opportunità. Su Ebay puoi utilizzare fornitori come Amazon, Aliexpress, Walmart o fornitori privati. Ecco perché ho deciso di aiutarti ed ecco cosa ho deciso di darti. Più di 8 ore di formazione continua, aggiornamenti gratuiti a cadenza mensile nel tempo, un accesso privato nel gruppo Mentor su Telegram e anche su Facebook. Ho deciso anche di darti un mese gratuito nel software gestionale per iniziare a fare dropshipping su Ebay. In questo modo lo potrai iniziare quasi a costo zero. Quindi non aspettare altro, unisciti, diventa un venditore Ebay e inizia a vendere in dropshipping su Ebay. Trovi più informazioni su dropshippingkilometrizero.com Vai a conoscere Ebay AZ, il primo corso italiano su dropshipping su Ebay.